Come hai visto questa partita? Siamo venuti con una squadra giovanissima, quasi tutta la Juniors, quindi l'ho vista bene. Primo tempo, sui quinti, li prendevamo sempre l'impiezza, quindi siamo riusciti a fare golla e ad essere pericolosi. Poi abbiamo commesso degli errori. Ragazzi, non abbiamo mai giocato, dovevo sbagliare. Va bene così, una buona gara. Una prestazione comunque buona. Cosa vorresti dire ai tuoi compagni appena arrivati? Sono contento per loro, devono giocare, ora devono giocare e fare i minuti sbagliare perché è l'unico modo per entrare più bravi. Ora è il loro momento, quindi sono contento, sono soddisfatto, hanno fatto una buona gara. Hai giocato in attacco oggi, difensore, centocampista, ti vediamo mai in porta? No, perché c'è il friggio che siamo stati in rabbia, avete visto che è scorbutico, non ci si può uguale il posto. Va bene così, ci mettiamo a disposizione del mister e l'importante ora è divertirsi. L'hanno è dato.